Daniela Reo, appena finito di parlare Stefano Parisi, a conclusione di una conferenza programmatica durata due giorni, energie per l'Italia, che impressione ha avuto? L'impressione, l'entusiasmo è al massimo, positiva, non posso pensare altro. L'energia che Stefano ha saputo trasmetterci è favolosa, sia dalla campagna elettorale per la riconquista di Milano, passando per la riconquista del Pese, è stupendo, Stefano è bellissimo. Finalmente una convention ricca di contenuti e non solamente autoreferenziale. Finalmente qualcosa che non è il solito convegno di partito, ma veramente tocchiamo i punti per cambiare il Paese. Ecco, proprio questo è uno degli aspetti su cui ho insistito di più Parisi, cioè il fatto di coinvolgere la società civile non in contrapposizione ai partiti, ma per cercare di stimolare i partiti a quello che è poi l'interesse vero del Paese. Sì, deve finire la lotta Milan-Inter. Ci sono delle cose importanti da affrontare, se non vogliamo che l'Italia affondi e non è questione chi vince al referendum e la paura che Renzi ha messo se vince il no. Un problema ci vuole una programmazione. Quali sono i punti fondamentali? Il lavoro, l'immigrazione, la sicurezza? Su che cosa vogliamo puntare? Dobbiamo guardare al di là dei prossimi sei mesi, dobbiamo guardare al di là della mia vita, ma della vita addirittura dei miei figli e dei miei futuri nipoti.